Con il coach Bruno Napolitano presentiamo il big match della settima giornata del campionato di A2 Gironea, il volley soverato sfida in trasferta alla capolista San Giovanni Marignano, una sfida che si preannuncia difficile ma anche stimolante per un volley soverato che domenica scorsa ha vinto 3-1 con Club Italia e vuole riprendere la marcia anche in trasferta. La marcia in trasferta sarà difficile, sarà difficile anche se ci proveremo con tutte le nostre forze perché la squadra che avremo di fronte è una squadra molto forte, allestita per fare il salto di qualità, per fare il salto in A1, quindi una partita che è complicata sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico. Questo non significa che la partita non ce l'andiamo a giocare, ce l'andiamo a giocare al massimo delle nostre possibilità in un campo che è un campo comunque molto caldo, che ci metterà molta pressione addosso, per cui con una tranquillità un po' maggiore dopo il successo con Club Italia, credo che sia una di quelle partite a giocare lasciando la pressione agli altri e giocandosela al massimo delle nostre possibilità. Tutto sommato credo che la filosofia giusta all'incontro sia questa. Presentiamo tecnicamente questa capolista, sei vittorie su sei nelle prime sei giornate di campionato, una squadra che vanta in tutti i reparti elementi di esperienza, un tecnico che conosciamo bene anche qui a Soverato, una squadra che come dicevi tu si candida a recitare un ruolo da protagonista sino alla fine della stagione. È una squadra che ha fatto la campagna acquisti utile alla promozione, tutto qui. Quindi è una squadra che ha preso il meglio che poteva prendere e che ha fatto la panchina lunga, come dimostra anche la partita di domenica a Cutrufiano in cui vincono senza De Cortes. Quindi è una squadra che non ha punti deboli, non ha lacune, batte bene, mura bene e soprattutto c'è il vantaggio di avere quattro settimi che giocano insieme ormai da tanti anni. Quindi Lualdi, Gray, Battistoni, Saguatti si conoscono a memoria. Una squadra che ha inserito De Cortes, che è uno dei migliori opposti della categoria. Ha inserito Bresciani, che veniva dall'esperienza in A1 con Chieri. Quindi c'è poco da aggiungere, è una squadra forte in tutti i reparti. Noi cerchiamo di giocarci la nostra partita al meglio. Non saremo sicuramente vittima sacrificale, ma abbiamo la consapevolezza di avere una squadra di fronte, una squadra forte per cui va affrontata con grandissima attenzione ed è l'unico modo per poter cercare di fare risultato. Poi il resto ovviamente lo vedremo sul campo. Chiara Di Parbelli, domenica si sfida la capolista San Giovanni Marignano, un soverato rinvigorito dalla vittoria interna con il Club Italia, cancellata prontamente la sconfitta di Cutrufiano. Si riparte con rinnovata fiducia, una squadra che sta lavorando intensamente in questa settimana per prepararla al meglio, una sfida che sarà sicuramente difficile. Sì, quella di Cutrufiano diciamo che è stata un po' una partita no, però ci sta ogni tanto sinciampa, l'importante è rialzarsi, l'abbiamo fatto vedere domenica e comunque da martedì quando abbiamo ripreso gli allenamenti ce la stiamo mettendo tutta e ci siamo rialzate, ci stiamo allenando molto intensamente per preparare la partita di domenica al meglio perché comunque San Marignano è una squadra comunque forte, una buona squadra e quindi dobbiamo dare il meglio di noi per cercare di fare bene. Domenica scorsa con Club Italia una prestazione anche di carattere del volley soverato in alcuni frangenti difficili della gara, il carattere che servirà anche per andare a sfidare la capolista che sappiamo essere un'ottima squadra che ha vinto le prime sei partite di campionato. Sì, il carattere soprattutto dopo domenica si è fatto risentire e possiamo dire che abbiamo capito che senza il carattere non si va diciamo molto lontano, comunque domenica siamo riuscite a risvegliarci, a tirarlo di nuovo fuori e soprattutto anche nei momenti difficoltà dell'ultimo set e del quarto set siamo riuscite a non farci abbattere e abbiamo lottato fino alla fine e poi giustamente il risultato è venuto. Mancano praticamente tre partite al termine del girone di andata, un bilancio oppure le sensazioni che hai avuto in queste prime sei partite non solo sul volley soverato ma sul campionato in generale di A2 che si sta prospettando? È un campionato tosto perché tutte le squadre sono di un buon livello quindi non bisogna mai perdere la testa rimanere sempre molto attente e soprattutto non sottovalutare l'avversario perché diciamo che questo secondo me è un campionato che non ti regala niente quindi bisogna sempre lottare fino all'ultimo.